benvenuti questo nuovo video allora andiamo a sentire una traccia registrata sabato scorso che era non si sa un attimo il 28 numero così allora andiamo a sentire una traccia che ho registrato va bene sabato scorso 28 al mattino intorno alle 6 le 7 del mattino dovevo uscire domenica ma me la sono presa con comodo perché già la domenica mattina alle 5 ero qui che ascoltavo un po la registrazione ma non mi sono fatto prendere nel senso di voler uscire a tutti i costi come è successo in passato succedeva che fa registrava il sabato alla domenica uscivo con il video voglio prendere le cose con calma e da una certa parte ho fatto bene da una certa parte ho fatto male nel senso che ho fatto male perché oggi sono un po incriccato con la schiena ho preso uno strap sono mezzo rimbambito allora si sta andando un microfono allora certi pezzi li lascio un po lunghi è un po complicata questa questa registrazione perché è una parte cantata una parte parlata mentre registravo io ho chiesto se c'era qualcuno che voleva dire qualcosa come avevo detto non voglio fare le sessioni private allora adesso andiamo a vedere la traccia questa traccia escono fuori delle cose un po particolari e succede il fatto che spesso accade questo che io penso determinate cose e poi in metafonia loro mi dicono quello che io voglio sapere nel senso che io penso adesso andiamo a vedere e spiegherò un po magari forse un po lungo sto video però va bene così dai allora partiamo subito con la prima parte ovviamente spiego questa cosa che alcuni lo sanno alcuni non lo sanno che loro sanno dove andare a modulare e modificare i fonemi offerti o le fonemi le tracce audio o pezzi di libri qualsiasi cosa noi usiamo per fare metafonia e li mettono in modo che sono sequenziali cioè adesso questo sarebbe questo pezzo il reverse sarebbe la fine girato il reverse è l'inizio e quindi ascoltiamo qua subito al volo che cosa dice allora imma e ma cioè allora forse qualcuno lo sa qualcuno non lo sa io la madonna celeste la chiamo imma perché perché sono nato l'8 dicembre immacolata concezione e allora per me ma c'è un rapporto penso particolare c'è dal mio punto di vista ecco e niente io la chiamo imma e lei si è sempre presentata quando arriva col nome imma ma perché si dice maria maria può essere un'altra maria questa è una cosa tra noi nel senso perché poi più avanti vedremo sentiremo una cosa che spiegherò anche lì in dettaglio come ci rapportiamo con loro e loro come si rapportano con noi per farci capire chi sono e in questo caso è in ma in ma arriva e dice in ma ma perché perché spesso e volentieri io passo davanti a una statua durante l'arco della giornata quando torno dal lavoro e l'assoluto sempre gli dico ciao mamma ciao mamma celeste insomma e infatti vedete bene che imma io lo chiamo imma e si presenta come imma mamma perché ma dice ma c'è questo pezzo adesso il prossimo pezzo lo lascio intero perché andrebbe spezzettato ma io c'ho la schiena che mi fa male non voglio stare al computer più di tanto e farò riassunto di quello che dicono e lascio la traccia intera beh allora facciamo così qua dice la restringiamo dai facciamo anche un po di spiegazioni qua dice dolce viso insomma allora qui all'inizio dice vedo quello che fai e poi parla di battista questa non do una spiegazione molto accurata però secondo me si riferiscono e managgia l'ipotenusa e insomma battista che ha battezzato gesù e poi alla fine dice dolce viso vedo il dolce viso cioè imma dice che comunque mi vede mi guarda e mi dice mi fa un complimento che c'ho un dolce viso forse sta a significare che forse c'ha un dolce viso come battista cioè io ho un dolce viso come battista io non me lo ricordo veramente la figura di battista vabbè comunque andiamo avanti che sennò diventiamo veramente lunghi ah questa l'ho ripetuta tre volte insomma ecco è sempre la stessa e andiamo qui e qua dice qua il re se la ride questa è molto carina come cosa perché dice imma mi dice che qui c'è il re e se la ride insomma dice che vede il dolce viso eccetera eccetera e qui c'è il re che se la ride nel senso è contento ride e sono contento anch'io insomma che ride che lo faccio ridere perché gli spaccano le scatole tutti i giorni intanto però se la ride poverello e niente la ripetiamo ancora sta traccia qua il re ah è più specifico che è qua il re va che se la ride sentiamo che se la ride e insomma sono contento che se la ride e qua dice qua è è una parte che c'è un è una parte sonora dove ci sono varie persone che parlano non sono varie persone che parlano in metafonia ma hanno modificato il fonio ma dove c'erano persone che parlano e qua dicono una cosa molto interessante e particolare permessi a noi voi gli daremo 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 insomma daranno i permessi alle persone che vogliono alle anime che vogliono venire a parlare in metafonia anche questa è ripetuta tre volte ah ecco non avevo mai sentita questa parte qua e qui e riascoltiamo tutta la traccia insomma allora permessi a voi noi gli daremo passo di lì sudai allora questo passo di lì sudai io so chi è è un ministro è un ministro che mi ha iniziato il percorso quando sono entrato a fare metafonia è il ministro Pietro è San Pietro perché lo riconosco questo è sudai perché una volta io chiesi protezione in una metafonia e mi rispose in romano mi rispose una cosa di questo genere che io gli faccio a me mi dicevo Pietro San Pietro vorrei protezione no e mi rispose e si cevo e allora questo questo intercarale questo parlare passo di lì sudai passo di lì sudai io lo riconosco è lui e da tanto che non lo sentivo difatti mi chiedevo come mai non passava più perché comunque c'era Siro c'erano altri ministri insomma e si è fatto sentire ecco perché io dicevo pensavo perché non si è fatto più sentire San Pietro e mi dice che comunque passa di qui sudai e qua dice che razze che siamo vedi che razze che siamo vedi questo è penso io è una spiegazione loro che danno di loro stessi nel senso che comunque ci sono sempre perché anche il mio pensiero spesso si rivolge a loro nel senso che ah chissà se ci sono intorno a me chissà se mi aiutano ancora dopo tutti i casini che faccio dopo tutti i casini che ho commesso e sicuramente farò e loro vogliono rassicurarmi insomma ecco queste razze che vedi siamo queste razze vedi siamo nel senso così noi siamo non è che siamo diversi ma anche noi siamo uguali a loro qua suoni estergano qua suoni estergano nel senso qua i suoni io li modifico a mio piacimento questa è la metafonia nel senso ecco suoni estergano suoni estergano andiamo all'ultimo pezzo di questo di questa metafonia registrato un minuto un minuto e mezzo non volevo registrare molto perché se no porta via tanto tempo sia all'ascolto che anche poi all'interazione se non sono sessioni private e qua mi dicono una cosa incredibile che adesso io sono uomo infatti mi dice tu uomo tu uomo tu uomo e poi ultimamente stavo pensando chissà se ancora le stelle le stelle sono i ministri sono le guide sono i santi se sono ancora con me se mi vogliono ancora aiutare eccetera eccetera e mi fanno e mi dicono una cosa molto particolare stelle fin da ragazzo stelle fin da ragazzo cioè io ho i ministri delle stelle da quando ero ragazzo da quando comunque io non sapevo niente di questo mondo metafonia paranormale eccetera 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 e qua mi fa capire che in qualche maniera ero stato un po' scelto se poi entravo a fare una determinata cosa e infatti è stata così nel senso ho scelto di approfondire la metafonia e tutto il resto e forse loro sapevano già che comunque il mio percorso poteva essere questo e mi dicono stelle fin da ragazzo insomma io ho le stelle fin da ragazzo i ministri che mi seguono fin da ragazzo ne hanno viste di cotti di crude porelli qua è la fine e niente questa era andiamo il mio faccio questa era la metafonia di sabato scorso 28 insomma ho qualche interazione molto particolare dove c'è Imma che mi vede e mi dice che ho il dolce viso e insomma che ho le stelle fin da ragazzo che sono pronti comunque ad aiutarci a aiutarmi ancora nei contatti nella nei prossimi nelle prossime metafonie che farò insomma e che mi ricordo di aver sentito qualcos'altro adesso mi sfugge o l'ho tolto boh e che in questi giorni non sono riuscito molto stare dietro tra sto strappo la schiena eccetera non ce la faccio stare molto al computer e niente questa era una piccola metafonia insomma ma piano piano cercherò di iniziare e di continuare comunque questo lavoro che vorrei fare continuare a fare e comunque loro vogliono che io lo faccia e a me mi sta bene nel senso fin quando c'è comunque il volere del cielo del cielo si fa se poi me lo tolgo non si fa più farò altro e niente beh al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti